intanto le altre che ho preso prima hanno un aspetto veramente super lucido wow nei giorni successivi il runner è caduto per il vento e ovviamente si è completamente rovinata la parte anteriore che ho dovuto smontare e portare a riverniciare andiamo a farci alleggerire il portafoglio il faro in seguito alla caduta riportata si è leggermente rovinato graffio tolto ho iniziato questo video a gennaio dopo aver fatto il viaggio di circa 2000 km siamo arrivati a praticamente fine aprile io ho procrastinato tutti i problemi che avrei dovuto risolvere fino ad oggi vabbè a parte la frizione nuova che non ho intenzione di montare in questo video perché non ho voglia di aprire il copricarter per la 140esima volta ma lo farò durante un tagliando visto che per tirare via no in realtà non serve a niente ma tireremo via il copricarter durante un tagliando e ci riproveremo nuovamente altrimenti mi toccherà andare nel meccanico perché io mi sono comprato la frizione nuova ma non l'ho mai montata perché il meccanico come sapete mi ha incastrato il piattello del variatore sull'albero allora a seguito del viaggio che ho fatto dei 2000 km si sono palesati alcuni problemi piccoli ma molto fastidiosi prima fra tutti il galleggiante della benzina che nonostante io l'abbia controllata prima di montarlo non funziona cioè le tacche della benzina sono sempre ferme alla prima tacca anche se io ho il pieno ho deciso di cambiare gli specchietti originali non solo per un fattore estetico ma anche perché si stanno davvero rovinando è probabile che prima o poi mi resti questo specchio per strada e certo esteticamente fanno cagare Amazon ho preso degli specchi nuovi che non so quanto siano buoni perché costavano davvero poco ma esteticamente secondo me sono tanta tanta roba cioè ci stanno proprio di brutto e in più si vede molto bene e sono omologati quindi sono perfetti un altro problema molto fastidioso che ho rilevato dopo il ritorno del viaggio è che la pompa della benzina gocciolava ora non so se si tratti di un problema di tubi con le fascette strette male ma visto che devo smontare quasi tutte le carene andremo a sostituirla con una nuova qua c'è un kit di clip nuove nel caso in cui quelle che sono su facciano cagare e qui c'è la pompa nuova questo è il massimo a cui sale ultima non per importanza sarà il fatto di raddrizzare il manubrio visto che è storto sì, cioè io guido dritto ma la ruota va verso sinistra leggermente quanto è tante di vestiti ha sto scooter spero io non lo smontare mai più per arrivare dove devo arrivare è assurdo perché devo smontare praticamente mezzo scooter questo è il perno da svitare per poter raddrizzare il manubrio come vedete ora è il dritto perfetto ma la ruota tende un po' verso destra non so se rende ma lo fa penso qua comunque è quello che oggi ho veramente più di tutti perché è una mezzo il runner praticamente smontato quasi tutto allora ragazzi oltre a essermi allagato di benzina qua quindi ora asciughiamo un po' tutto ho semplicemente girato il galleggiante con il galleggiante verso qua che si alza così e miracolo cioè funziona perfettamente quello che è successo è semplicemente che ho messo il galleggiante nella parte sbagliata e quindi il galleggiante non poteva salire più di una certa altitudine e quindi il mio serbatoio mostrò sempre è una tacca di benzina ora funziona perfettamente ho dovuto smontare mezzo scooter ho perso 300 ore ma ora so quanti chilometri posso fare attendiamo un attimo che si asciughi questa pozza perché la benzina è cancerogene quindi fa male e io devo risolvere un altro problema il giorno in cui mi sono ritrovato il runner a terra questo era aggraffiato aveva preso un bel colpo quindi la sigillatura del faro si era un po' andata a fare io non me ne sono accorto subito ma quando sono andato a lavare lo scooter condensa quindi ora sigilliamo di nuovo tutto qua faro risigillato lungo tutto il suo perimetro effettivamente la vecchia sigillatura si era un po' rovinata era crepata quindi ci stava che l'acqua entrasse montiamo prima di tutto questa vite per non perderla che fra l'altro tiene anche più frisso il serbatoio questa qui e questa qui sono nuove le ho prese originali ok no 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 ok sono riuscito a sostituirlo diciamo che se in questo momento mi tirassero addosso una sigaretta prendere fuoco problema pompa a benzina risolto raddrizzato niente ragazzi a questo punto bisogna rimontare tutto quanto da capo rimontato tutto faro asciutto la sigillatura è avvenuta e fine l'ora degli specchi guarda ci sta molto meglio di quello originale fra l'altro il lavoro viene super pulito questo è il gommino non originale visibilità assurda perché comunque è grande lo specchio e la c'è un'escrizione ciao